Weekend intenso per gli appassionati di pallacanestro. In Lega 2 turno casalingo per il Barcellona che riceve Pistoia domani alle 18.15. L'Orlandina di Pozzecco gioca invece in trasferta a Ferentino. In divisione A trasferta impegnativa per l'Agrigento a Ferrara. In divisione B il Trapani a Pescara cerca la vittoria della svolta. In C sono due gli anticipi in programma. Oggi il Marsala gioca a Reggio Calabria contro la Jolly e il Paternò è di scena a Messina. Domani ritorna a giocare al Palavolcan la Cireale che attende Catanzaro. Sempre domani il Gela affronta il Cus Messina mentre il Canicattia ospita la Vis Reggio Calabria. In Serie A 1 femminile turno di riposo per il Priolo che dopo aver vinto contro il Cagliari nel recupero di giovedì si concentra sul prossimo impegno di mercoledì in casa contro Parma. In Serie A 2 anche la Ragusa osserva il turno di riposo. Ritornerà sul parquet sabato prossimo. In Serie B regionale oggi gioca in casa la Rainbow Catania che affronta l'Alcamo in un palagalermo vuo ancora vietato al pubblico. Palla a 2 alle ore 17. Vole in Serie A 2 maschile il Brollo domani alle 18 al Palasporto di Patti ospita il Loreto. In B1 la Pallavolo Messina gioca in casa della Monte Rotondo. Turno di riposo per il Giarratana. In A2 donne il Marsala sarà di scena a Mazzano, formazione che punta ai play-off promozione. In B1 giornata importante per le due squadre siciliane. Nell'anticipo di campionato il trimestiere affronta il Casal dei Pazzi Roma. Il Gela invece va alla ricerca di punti pesanti a Sabaudia. Infine la palla a mano in A2 maschile sarà impegnata in trasferta la capolista Albatros Siracusa che oggi affronta il Girgenti. L'Enna ospiterà l'Orlandina. In A2 donne si gioca oggi Messana Licata. In A2. In A2. In A2. Imposta Fame expectations minare. In A2. In A2. Grazie a tutti